Ciao ragazzi, si riparte, si riparte e andiamo al campo. Partita domenicale, Magliano-Pietigliano, scontro per il vertice, per i primi posti della classifica. Questo video forse lo vedrete stasera, forse domani o lunedì. Boh, vediamo. Comunque, state bene, seguitemi, anche il campanello è attivo e sostenete il canale. Allora, come ho detto, partita domenicale casalinga, Magliano-Pietigliano, che vale per le prime posizioni, seconda o terza posizione del girone di terza categoria, Magliano-Maglianese, squadra di casa, viene da un pareggio esterno domenica scorsa per 2-2 e dove ha perso un po' di terreno dalla capolista che è uscita vincitrice domenica scorsa. Andiamo a vedere, siamo un po' in ritardo, ormai questa avete capito che è mai la tradizione, andiamo di comoda di domenica così, giornata tranquilla e ci vediamo dopo, ok? Ciao! Grazie a tutti! Allora, è iniziata la ripresa, il secondo tempo, e la squadra di Magliano ha trovato, la Maglianese ha trovato subito la rete del 2-0, che il primo tempo si era concluso su 1-0, il primo tempo dominato, il secondo è già iniziato con il piede giusto, e dai, i tre punti sono vicini, ora vediamo come si evolve la situazione, ci vediamo. Stiamo rientrando verso le macchine, ci accingiamo ad andare verso casa, verso il paesello, adesso ora ora c'è stata la rete del 3-0 della Maglianese, partita archiviata, tra qualche istante finirà, sentiremo il triplice fischio, vittoria importante perché in verità sembra da quelle notizie che sappiamo, dal capolista, essere stata fermata sul pareggio, addirittura sconfitta, ne sapremo meglio in serata. Ok, ciao a tutti!